Ciao ragazzi, sono io, Tairanto, e visto che il dietologo mi ha detto Tairanto, tu sei proprio lo sciacallo delle intemperie, mi ha dato una dieta precisa e mi ha detto, queste non mi servono e me le ha regalate. E poi mi ha dato questi qua, scricchi, che sono dei grissini con mais viola e avena. Il colore mi fa una paura boia perché è lo stesso colore della patatina piccante dell'altra volta nell'episodio speciale in cui siamo morti tutti e canonicamente quello è l'ultimo video del Funky Taco. Perché tanto ci sa, tu fai un video cinque anni prima e YouTube te lo banna a caso e scrive cyber-razzismo, cyber-bullismo e associazioni criminali, che cazzo, non mi ricordo neanche perché sono dei drogati di merda, mai quanto me, e come potete vedere, incredibile davvero, non sono scaduti. il packaging, come potete vedere, adesso faccio l'interlocutore, ovvero il ladro di lavoro a Deuterio e quindi packaging 18 su 40. Eccolo qua. Ima, the fucking bacchetta of shit of dog, it's very long, like this, this is mine, this is my wife and now, why I'm talking in English, I don't know, shiranai koto. Ima wa, tabimasu, itadakimasu. ha senso, avevo una paura boia perché sembrava tipo that motherfucker, però no, sono grissini con l'avena e mais, il mais è prevalente sull'avena e basta.